tramite la pianificazione wifi è possibile attivare e disattivare automaticamente la rete wireless del dva 5593 in determinati orari in questo breve video ti mostreremo come disattivare il wifi durante il fine settimana e come pianificare l'attivazione della rete solo in alcune ore della giornata apri il tuo browser preferito e scrivi l'indirizzo ip del dva 5593 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi e premi invio inserisci il nome utente la password nella schermata di login e clicca accedi verrà visualizzata la schermata home che fornirà una completa panoramica dello stato della configurazione corrente del router clicca nel menu in alto a sinistra e seleziona vista avanzata scegli il menu wifi e clicca sul nome della rete wireless si aprirà la pagina parametri wireless clicca configurazione pianificazioni wifi e poi abilita la pianificazione tramite i cursori laterali seleziona un orario di inizio e uno di fine intervalli di accensione della radio wireless sono di colore verde il colore rosso indica invece un intervallo in cui il wireless è disattivato è possibile invertire il periodo di attivazioni per ogni giorno della settimana e se necessario creare un nuovo profilo per un'ulteriore pianificazione wireless inoltre tramite il tasto frontale vlan presente sul dispositivo puoi attivare o disattivare la rete wifi in qualsiasi momento e anche con pianificazioni attive a parlare un'ulteriore